io me lo mangio tutto è un sacrificio ma qualcuno lo deve pur fare buongiorno a tutti voi che voi siate col fiato sospeso per l'elezione del nuovo presidente o che invece il fiato lo riservate per la corsa nel parco benvenuti nella mia cucina questa è il kravabalada kitchen to scorch uncle tevelet la domanda ci giunge tale quale is the man in the kitchen e anche per oggi la risposta non c'è dato conoscerla cosa facciamo oggi qui in questa cucina oggi andiamo a vedere come si cucina il pesce nel modo più semplice possibile ma con la massima efficace e quindi cosa andiamo a fare il branzino al forno in crosta di sale questo è un piatto talmente semplice che può essere realizzato veramente da tutti qui andiamo a vedere come realizzarlo nel modo migliore gli ingredienti giusti e i tempi di cottura e qualche piccolo segreto per dargli quella marcia in più vediamo insieme gli ingredienti l'elemento principe di questa antica ricetta è certamente il pesce io in questo caso ho il branzino mi raccomando il pesce deve essere freschissimo questa è una pezzatura da 500 grammi deve essere il pesce deve essere pulito all'interno via l'interiore ma assolutamente non fatelo squamare importantissimo per la cottura dopodiché utilizziamo il sale grosso il sale fino gli albumi delle uova un bicchierino di aceto di vino bianco circa 50 millilitri la buccia di un limone non trattato è un misto di spezie qua utilizzo prezzemolo salvia e anche il rosmarino dell'olio extravergine di oliva basta qui finiscono tutti gli ingredienti quindi non ci resta che andare a vedere come realizzare il piatto quindi sigla e i procedimenti la prima operazione che dovete andare a fare è quella di accendere il forno e per riscaldarlo a 220 gradi e lasciatelo lì che a breve andremo a riempirlo la seconda operazione da fare quella di andare a pulire il pesce quindi cosa facciamo la cosa più importante ovviamente è aprire il pesce la pancia tirarle via tutta l'interiore dopo aver aperto il pesce tirato via l'interiore la seconda cosa che vado a fare è controllo le branchie vedete come sono belle rosse e segno che comunque il pesce fresco e le vado a rimuovere con una forbice successivamente cosa molto più importante è quella di non tirare via le squame del pesce perché perché le squame del pesce ci aiutano a evitare che il sale possa penetrare all'interno delle carni quindi questo andrebbe poi a creare una situazione in cui rischiamo di avere un pesce un po' salato una delle difficoltà più grandi nella cottura del pesce con la crosta di sale è quella di evitare che le carni del pesce assorbano troppo sale quindi questo è la prima cosa da fare non tirare via le squame ora con una forbice elimino le branchie andiamo a sciacquarlo bene sotto l'acqua fredda e vado a tamponarlo con della carta assorbente in modo da asciugarlo in maniera perfetta mettiamo da parte il pesce ci occupiamo degli aromi seleziono delle foglie di prezzemolo foglie di salvia abbiamo qui anche del freschissimo rosmarino buonissimo se avete anche del basilico o comunque qualche altra fogliolina aromatica volete mettere della menta qualcosa mettete magari evitate l'alloro che in questo caso andando a tritare un po troppo pesante però è un po troppo forte ma per il resto va bene quasi tutto e adesso con molta pazienza vado a triturare tutte le verdurine aggiungo il trito degli odori anche delle zeste di limone ok le tiro via questo è un profumo che nel pesce secondo me non deve mai mancare e voilà vado a mettere pochissimo olio dentro la pancia del pesce prendo il trito aromatico e vado ad inserirlo bene 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 nella pancia del branzino allora una delle cose a cui bisogna prestare attenzione nella cottura del pesce in crosta di sale e quello ovviamente di non far andare in contatto il sale che andremo a mettere poi in cottura con la carne del pesce perché altrimenti andrebbe ad alterarne parecchio il sapore e diventano veramente dolori a me è capitato qualche volta e fino a un certo punto riesce a recuperare poi dopo devi rinunciare allora per evitare questo ricordatevi di chiudere bene il pesce quindi la parte della pancia sotto la fate rientrare dentro lo stomaco del pesce e la ricoprite con la parte sovrastante quindi in questo caso vi faccio vedere abbastanza bene in questo caso la parte sotto va all'interno e sopra lo richiudete così facendo avete quasi perché comunque la variabile c'è sempre la certezza matematica di non aver il sale a contatto con la carne quindi fatto questa operazione lo prendiamo e mettiamo da parte il pesce così bello imbottito e ci occupiamo niente di meno che della magica crosta di sale pur essendo una cottura molto semplice ha bisogno di alcuni accorgimenti tecnici quali innanzitutto le quantità la cosa importante è ovviamente il sale si utilizza quale allora si utilizza il sale grosso in proporzione con il sale fino quanto se ne utilizza in linea di massima si aggiunge ad un chilo di sale grosso 200 grammi di sale fino e due albumi d'uovo in questo caso il pesce da mezzo chilo ma siccome voglio che ci sia una bella crosta tutto intorno al pesce quindi almeno un paio di centimetri sotto il pesce e sopra il pesce di crosta vado a utilizzare due chili di sale grosso e 400 grammi di sale fino li vado poi a mescolare tutti con le proteine degli albumi dell'uovo quindi quattro albumi d'uovo e dopodiché gli aggiungo 50 millilitri di aceto bianco allora le proteine dell'uovo aiutano a far coagulare l'impasto che andremo a creare questo fa sì che tutti gli elementi si riescono ad aggregare con più facilità e rimane piuttosto elastico si può anche utilizzare semplicemente invece che gli albumi delle uova anche un po di acqua però sinceramente non è una soluzione ottimale poiché l'acqua comunque nel forno tende ad evaporare all'interno della bilancia vado ad aggiungere due chili di sale grosso e 400 grammi di sale fino dopodiché metto da parte il sale e prendo le uova le vado a separare quindi tuorlo dall'albume mettiamo da parte i tuorli che andremo utilizzarli chissà perché cosa ma qualcosa la faremo e ci concentriamo sul nostro impasto si può fare benissimo a mano in planetaria come volete io personalmente per abbreviare l'operazione ad utilizzare un semplice sbattitore ma con l'accessorio per impastare quindi prima di tutto senza le uova vado a mescolare il sale grosso col sale fino vado ad aggiungere i quattro albumi delle uova tutte dentro e iniziamo a mescolare aggiungo anche l'aceto questo serve anche per neutralizzare un po anche il sapore delle uova all'interno dell'impasto ma anche aiuta a far montare in maniera diversa il composto spesso vedo anche questa operazione fatta con il metodo di montare le uova gli albumi e poi di aggiungere al sale sinceramente fatto così ha una consistenza completamente diversa e ritengo che non sia necessario montare le uova anzi in alcuni casi andare a montare gli albumi e poi metterli a contatto col sale può essere anche controproducente quello che sembrano quasi delle meringhe questa è la crosta perfettamente montata di sale albumi e aceto che dovremmo andare ad utilizzare per ricoprire il pesce quindi senza ulteriori indugi andiamo a vedere come realizzare la crosta prendo una teglia questa è la più grande che ho utilizzerò questa creo con le mani un fondo una base vedete rimane compatto proprio come se fosse una meringa lo vado a compattare sul fondo faccio circa due centimetri di base prendo il pesce mi assicuro che sia ancora ben compatto chiuso perfetto qui si capisce come è importante non tirare via le squame del pesce vado a ricoprire per bene il pesce o questa operazione si può fare con tutti i tipi di pesce è uno dei metodi più antichi di cottura qui i tempi come vanno allora una regola diciamo un po arcaica ci suggerisce che mezzo chilo di pesce dovrebbe andare in cottura per massimo 20 minuti però ovviamente non è sempre così dipende un po dal forno dipende un po anche da quanto calore ha preso l'involucro quanto umidità contiene il pesce quindi uno degli indicatori che ci dicono quando il pesce è cotto è l'occhio quindi semplicemente cosa faccio vado a creare un buco qui all'interno in questo modo quando il pesce andare sarà in forno potrò visivamente controllare è arrivato a fine cottura questa è la montagnetta che abbiamo creato tutta con la crosta di sale e albumi e qui abbiamo creato il nostro foro per controllare l'occhio ce ne andiamo in forno 220 gradi e lo teniamo così per almeno 10 12 minuti dopodiché abbassiamo il forno lo portiamo intorno ai 180 gradi e lo lasciamo ancora per una decina di minuti insomma poi dipende anche quanto è grande il pesce diciamo che con mezzo chilo di pesce non vado oltre i 20 minuti di cottura ora intanto che attendiamo i 10 minuti vado a tirare via questi guanti da umpa loompa sono trascorsi 12 minuti andiamo ad abbassare il forno a 180 gradi e ultimiamo la cottura mi raccomando controlliamo sempre anche l'occhio del pesce che abbiamo lasciato scoperto che quello è il nostro indicatore eccoci al momento fatidico vediamo e scopriamo la verità tiriamo fuori il pesciotto l'occhio è bello bianco allora vedete questo colore giallino bello questo è il colore giusto della cottura ora lo lasciamo così riposare intanto la sua cottura va avanti molto bene mi armo di un martelletto improvvisato questo abbiamo altri non ce ne sono inizio a liberare il pesce quindi con qualche colpettino questi sono i pezzi di crosta che rimangono uso due cucchiai e dopo aver rimosso il tutto vado ad adagiarlo su una pirofila vediamo come viene via la pelle come potete vedere la pelle viene via così facilmente inizio a recuperare un po di carne guardate che che bell'aspetto che ha ha proprio un bel aspetto speriamo che sia anche buono e come rimane la carne umida quindi non è per niente secco non ha cotto troppo ora con parsimonia vediamo di recuperare il più possibile non si butta via niente gli aggiungiamo un filo di olio extravergine di oliva sopra e così siamo pronti per andare alla prova dell'assaggio ed eccoci qua come al solito casualmente qui ci troviamo con un coltellino e una forchetta non ci resta che vedere se è venuto buono o se invece qualche processo non è andato a buon fine abbiamo combinato un disastro iniziamo con questo pezzettino qui ci mettiamo qui a favore di camera come potete vedere il pesce è ancora morbidissimo rimane ancora umido quindi la cottura che ovviamente all'interno dell'involucro è una cottura a vapore ha dato i suoi frutti vediamo com'è venuto meraviglia neanche un granello di sale questa è la cosa più soddisfacente di questa tecnica oltre a questo rimane inalterato intatto il profumo e sapore del pesce quindi io questo qui ne assaggio ancora un'altra pezzo veramente eccezionale mamma mia mamma mia credetemi se fosse salato così in bocca non riuscireste a mandarlo giù io spero davvero che la ricetta vi sia piaciuta che avete imparato qualche cosa di nuovo se così fosse mi raccomando iscrivetevi a questo canale facciamolo crescere questo canale mettete un like andate a partecipare alla parigi dakar fate un po quello che volete io vi ringrazio vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima video ricetta ciao a tutti da crava pelata ciao belle gioie ciao a tutti ciao con la testa nel piatto senza vergogna è buono è buono